E' un onore e un piacere essere in questa sala in questo giorno per omaggiare Giorgio, è un piacere perché in sala, già alcuni hanno parlato, ci sono tantissimi e molte voci nobili dell'ambientalismo italiano E' un onore perché, vorrei ringraziare Giorgio per questo, ci onora della sua amicizia, onorato il gruppo di ricerca di cui faccio parte che faccio all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici e a una larga comunità campana della sua amicizia E' la prima volta che uno incontro di persona, ci siamo sentiti, ho prima letto i suoi testi Alcuni di questi li abbiamo voluti raccogliere col gruppo di ricerca a cui accennavo in questo volume La contestazione ecologica Come ci siamo imbattuti nelle pagine di Giorgio Libia? Ci siamo imbattuti per una strada tortuosa, in uno di quei luoghi in cui ha la sua precipitazione terrestre il capitale finanziario Parlo della campagna, parlo di un pezzo della campagna che molti di voi forse conoscono come la terra dei veleni, la terra dei fuori Solamente un accenno, noi studiamo e lottiamo e cerchiamo di conquistare uno spazio di pensiero e di vita In uno dei territori in cui si è consumato e purtroppo si consuma uno dei più grandi delitti dell'epoca industriale Lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali nelle falde, nei mari, nei campi e in quella che era una delle terre più fertili d'Italia Mi fermo qui perché questa è una storia che meriterebbe molto più spazio Ma vi voglio raccontare quali sono le pagine, quali sono gli aspetti che di Giorgio Nebbia ci hanno colpiti Giorgio Nebbia è stato uno dei primi ambientalisti italiani, ecologisti italiani Che ha messo l'accento sulla necessità di scrivere una storia dell'ambientalismo E non di scrivere una storia di ambientalismo firma solamente a raccogliere i testi legislativi O alcuni fenomeni naturali Quando lui parla di storia dell'ambientalismo parla della storia della contestazione ecologica In uno dei due testi che abbiamo racconto in questo volume Breve storia della contestazione ecologica Giorgio da questa brevissima e secondo me molto efficace definizione La contestazione e la protesta ecologica nascono in varie epoche Ogni volta che uno o più persone percepiscono le offese alla natura e all'ambiente Come forme di violenza e di violazione di diritti individuali e collettivi Questo rapporto tra natura e diritti individuali e collettivi E in un passaggio immediatamente successivo, un altro passaggio fulminio del suo testo Dice dove è il contenuto sovversivo di questa storia, di questo movimento di uomini e donne Il contenuto sovversivo della contestazione sta nel fatto che ogni miglioramento della qualità della vita Richiede modificazioni nei cicli di produzione delle merci e delle merci stesse Comporta dei limiti nelle attività economiche e nella stessa proprietà privata Questo a noi piaceva di questo testo e per questo l'abbiamo raccolto in questo volume attualissimo A nostro parere, il fatto che ogni forma di contestazione se non intercetti immediatamente i modi di produzione Se non intercetti immediatamente le precipitazioni materiali che queste modificazioni comportano Le lotte diventano velleitarie, diventano un passatempo E vengo al secondo punto, Giorgio ha il merito, è stato ricordato poco anzi Di ragionare intorno alle merci Guardate, il mondo delle merci nell'epoca del capitale è un mondo metafisico Le merci come feticcio si presentano slegate, sradicate dal contesto da cui vengono Innanzitutto dalle materie prime da cui sono state prodotte Due, da quella fitta catena di uomini e donne che l'hanno prodotta Terzo, da quella altrettanto fitta e a volte sofferente catena che li consuma E noi nel nostro territorio viviamo questo secondo ciclo della materia Quando quella merce diventa una merce di secondo tipo, diventa rifiuto, diventa speculazione Ecco, questo elemento a nostro parere è molto importante Perché oggi in cui le forme di capitale diventano sempre più astratte È necessario radicalizzare, cioè riportare alla loro radice di produzione e di trasformazione Della natura e dei rapporti sociali Ultimo punto e chiudo Giorgio mette l'accento su un elemento che noi riteniamo molto importante Manca ancora in Italia un archivio storico delle lotte in Italia Questo per noi resta e c'è il merito di Pierpaolo Poggio, c'è il merito della fondazione Micheletti C'è il merito di altri, penso ai fondi d'Italia Nostra, ai vari archivi All'archivio Cederna, all'archivio Iannello a Napoli Ci sono dei luoghi ancora troppo separati, slegati tra di loro Noi crediamo che un conto che abbiamo ancora noi da portare avanti Dell'insegnamento di nebbia sia di mettere insieme i pezzi Perché raccontare questa storia, renda l'accessibile Come è stato per il movimento operaio, come è stato per il movimento della resistenza in Italia Significa tenere presente la nostra memoria E voglio concludere con un altro brevissimo passaggio Ma intenso passaggio di un secondo testo di Giorgio Appunto dedicato e intitolato Per una definizione di storia e ambiente E Giorgio si domanda perché ad oggi Dopo 40 anni di lotte ambientali Non ci sia questo archivio Non ci sia questa memoria collettiva organizzata Che è possibile da studiare Lui dice che il potere non vuole una documentazione storica pubblica Che possa metterlo in discussione E fa male perché uno scrutino tecnico-scientifico retrospettivo Aiuterebbe ad evitare futuri errori E consentirebbe di identificare le azioni che potrebbero ridurre i danni ambientali E di organizzare meglio la difesa dell'ambiente Io su queste parole ringrazio Giorgio Quindi ci ha dato un grande aiuto In una terra bellissima ma complicatissima A organizzare i comitati Le persone che intorno al tema dell'ambiente Si stanno attivando E stiamo provando di consegnare loro Anche un centro di documentazione di conflittabilità Per cui a breve vi parlerà un'altra nostra amica in sala E su questo io credo che abbiamo ancora tanto da imparare Dal giovanissimo Giorgio Lippio Grazie 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 Grazie